Ma quanto aspettavate questo video e non avete torto? Vi ho fatto aspettare un pochino, lo so, lo so. Però sono finalmente arrivata con questo primo video su questa miniserie su Ichimoku, una serie che vi aspettavate da tanto tempo e che volevate da tanto tempo. Ne avevo già iniziata una, poi non l'ho mai conclusa per un motivo o per un altro. Adesso finalmente sono qui con il primo episodio. Non so quanti saranno. Non voglio caricarvi di informazioni, non voglio dirvi troppe cose, nel senso troppe informazioni inutili. Questi video spero saranno molto brevi, ma riassuntivi, pieni di contenuto, utili per voi. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ditemi se c'è qualcosa in particolare che volete sapere, che non vi è chiaro, curiosità, tutto quello che volete. E lasciate un like se il video vi piace, così da supportare il canale, continuare a crescere e continuare a fare video di questo tipo. Quindi oggi direi che possiamo iniziare con l'introduzione su questo indicatore, una breve analisi, ormai facciamo solo analisi, di cos'è, cosa non è, che cosa fa, qual è il suo scopo e vediamo i settaggi. Dopodiché andrò avanti con tutte le varie linee, probabilmente settimana dopo settimana, per arrivare alla sua lettura totale. Quindi siamo qui con ovviamente l'indicatore Ichimoku, ormai chi è che non lo conosce. Quando ho fatto il mio primo video riguardo mi sono messo a spiegare che era un indicatore giapponese, è questo e quello, adesso ormai penso non ci sia più nessuno che non lo conosce. Quindi appunto, se non lo sapevate, è un indicatore giapponese, il nome non lo dice assolutamente, no, no. E il suo compito è quello di mostrare l'equilibrio dei prezzi del mercato. Il suo nome stesso, che è Ichimoku Kinko Yo, vuol dire equilibrio a colpo d'occhio. Infatti il trader non appena apre il grafico, come in questo caso, questo è un grafico di Franco-Svizzero-Yen, un 15 minuti, vede a colpo d'occhio che cosa sta succedendo, in questo caso vedo una discesa. Come detto, il suo compito è quello di mostrare l'equilibrio dei mercati. Attraverso queste linee, sono esattamente 5 o 4, a seconda che le intendiate come SSB ed SSA, oppure solo Kumo, ma ne vedremo più avanti. E attraverso le rotture delle stesse, il mercato, anzi scusatemi, l'indicatore ci indicherà, appunto, l'indicatore indica, delle rotture dell'equilibrio. Questo vuol dire che quello che lui fa attraverso le rotture di queste linee non è darci un segnale di entrata, ma ricordarci e segnalarci una rottura dell'equilibrio. Questa è una grande differenza, perché Ichimoku è appunto un indicatore. Di conseguenza lui che cosa fa? Si comporta, è un ripetere sempre le stesse parole, scusatemi, però si comporta di conseguenza ai prezzi. Non è il prezzo a comportarsi di conseguenza all'indicatore. Pertanto è sbagliato utilizzarlo e entrare a mercato alla rottura delle linee. Perché non è questo quello che lui fa, lui ci va a mostrare quando il mercato non è più nel suo equilibrio. Vi faccio un esempio con questo grafico. Noi vediamo che qui inizia una fase ribassista, di conseguenza non siamo più in equilibrio. I prezzi vanno a rompere questa linea che è la Kijun Sen a rialzo e qui viene rotto, qua troviamo l'equilibrio, quindi da fase ribassista viene rotto l'equilibrio e si passa a fase rialzista. Attenzione perché questo non vuol dire segnale rialzista, non vuol dire long, vuol dire fase rialzista. Poi in realtà è stata una lateralità, vediamo che si ritorna sulla zona di equilibrio, viene rotta nuovamente, poi si ritorna su e poi una volta per tutte viene rotta e si inizia a scendere. E qui inizia un vero e proprio trend ribassista. Si scende, si scende, si rompe nuovamente, anzi ci si mette sopra questa linea, quindi si ritorna alla linea di equilibrio e qua insomma è un'altra lateralità. Quindi vedete che questo indicatore ci indica proprio dove è l'equilibrio del mercato al momento, in che fase del mercato ci troviamo e la rottura di queste linee ci va a indicare la rottura dell'equilibrio, che ricordo non vuol dire segnale di entrata. Quindi come si fa ad utilizzare Ichimoku per entrare a mercato? Bisogna avere una chiara idea di che cosa la price action sta facendo in questo momento, o comunque che cosa ha fatto, cosa è possibile che faccia. Quindi bisogna conoscere il mercato, bisogna conoscere i prezzi, le candele, bisogna fare un'attenta analisi dello stesso. Non si può pensare di operare utilizzando solo questo indicatore, e soprattutto utilizzarlo con le rotture, perché così ci renderemo conto che non sarà approfittevole come si dice in giro, e anzi sarà anche parecchio fastidioso per il trader che andrà a tradarlo non capire che cosa sta succedendo. Quindi direi che Ichimoku più price action è veramente una coppiata vincente, perché in questo modo si riesce veramente a capire cosa può succedere, dove i prezzi potrebbero andare, quale può essere il mio piano di trading, tutto molto probabile, nulla di sicuro, ma bisogna avere una chiara visione di che cosa sta succedendo al di sotto, in modo da capire l'equilibrio che viene rotto in quel momento, perché viene rotto, e cos'è possibile che di conseguenza venga fatto. Quindi ricordo anche, risottolineo il fatto che appunto è un indicatore, indica che cosa i prezzi fanno, non succederà mai che i prezzi faranno qualcosa perché hanno rotto qualcosa di Ichimoku, o che faranno qualcosa perché Ichimoku ha fatto qualcosa, è sempre Ichimoku a fare qualcosa perché i prezzi hanno fatto, i prezzi vengono sempre prima di tutto. Dopodiché abbiamo gli indicatori, che seguono la ruota e che ci indicano che cosa questi stanno combinando in quel momento, ma ormai quando ce lo indicano è già successo, sappiamo bene che gli indicatori ritardano tutti. Per questo a me non piace utilizzarlo come indicatore, ma sì, no, non è vero, mi piace utilizzarlo come indicatore, ma non come generatore di segnali. E questa è una cosa che, devo dire, ha fatto molto la differenza nei miei studi su questo indicatore, appunto, scusatemi, continuo a ripetere la parola indicatore, però credetemi, fa veramente la differenza. Ma comunque, vedremo più avanti con gli esempi e con le linee di che cosa vi sto parlando. Chiaramente fatemi sapere se avete dei dubbi a riguardo e io cercherò di spiegarveli al meglio in un prossimo video, oppure vediamo, magari faccio un video spiegazione, un video risposto alle domande, ditemi voi che cosa preferite. Altra cosa che vorrei andare a vedere in questa puntata sono i parametri, i settaggi. Allora, spesso mi chiedete, Martina, ma quali settaggi usi? Perché io vedo il tuo Ichimoku un po' diverso? Allora, dovete sapere che molto spesso io faccio casino, perché non so per quale motivo, magari tolgo delle linee per sbaglio e poi me le dimentico. Già, cioè questo è per farvi capire. Io uso i parametri e i settaggi classici, quindi 9, 26, 52, che sono dei numeri, praticamente, che vanno a dare una determinata inclinazione o una determinata posizione alle linee, che vedete qua, che andremo a vedere in seguito. Che cosa indicano questi numeri? Allora, 9 corrisponde a una settimana e mezza della sessione lavorativa giapponese. 6 più 3, insomma. In Italia già è diverso, sarebbe 5 più 2,5. 26 è il numero di giorni lavorativi nel mese giapponese e 52 è 26 per 2. Quindi sono dei numeri che sono fondamentali e soprattutto sono significativi per il Giappone. Quindi mi piace proprio pensare, è come fosse una tradizione giapponese, il solito esempio della pizza e del sushi che in tanti avete sentito e vi è piaciuto. Andarli a cambiare, secondo me andrebbe a compromettere l'indicatore perché è già perfetto così, è stato inventato con questi parametri. Di conseguenza io mi chiedo chi sono io per andare a cambiare dei parametri così importanti, così fondamentali e significativi per questo indicatore. So che molti controbattono dicendo eh ma l'indicatore Martina è nato per il daily o per il settimanale, per time frame ampi, di conseguenza deve essere riadattato ai time frame minori. Mi permetto di dirvi che non sono d'accordo con questo per il semplice fatto che a parer mio le analisi non devono essere fatte con il paraocchi. Io non riuscirei mai ad operare su un grafico 4 ore o su un 15 minuti senza aver fatto prima un'analisi del settimanale o del daily. Di conseguenza, avendo prima fatto un'analisi sul settimanale e sul daily, se anche io vedo un grafico pienamente ribassista qui sul 15 minuti, io so che così non è. E di conseguenza non mi faccio fregare. Per questo è molto importante fare analisi in multi time frame, non avere il paraocchi e se avete quest'ampia visione di tutti i time frame e di che cosa sta realmente succedendo sul mercato, credetemi, non avrete bisogno di andare a cambiare i parametri di Chimoku, a parer mio. Poi inoltre, penso che, cioè penso e so che i giapponesi tutt'oggi lo utilizzano per tradare sia sul forest, sia sulle azioni, su time frame anche molto piccoli, anche per fare scalping e utilizzano gli stessi parametri. A parer mio, è sempre meglio essere in di più a vedere le stesse cose piuttosto che essere gli unici a vedere una cosa diversa che per quanto giusta possa essere saremo sempre solo gli unici e sappiamo che il mercato è una cosa gestita dalle masse e dai singoli molto potenti, ma principalmente dalle masse e quindi è sempre meglio vedere quello che vedono gli altri. Quindi, questo è, spero di avervi dato una buona introduzione, spero che, di avervi chiarito dei dubbi che magari potevate avere. Ovviamente, se c'è qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché sarò felicissima di rispondervi sia sotto il commento sia con esempi in un prossimo video. Spero appunto che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.